Bene, io sono Marco Pippucci, sono uno degli insegnanti della scuola per odontotecnici di Leonardo Dalvinci di Firenze e mi è stato chiesto di dare una definizione di odontotecnico. In modo romantico ad oggi si può dire che l'odontotecnico è un artigiano e l'artigiano chi è? È colui che crea una cosa che non c'è. L'odontotecnico rispetto a un altro artigiano, un falegname, un idraulico, un elettricista e quant'altro ha un valore aggiunto importante in quanto con il nostro lavoro si riesce a far sorridere le persone e questo si sa quanto vuol dire, si riesce a farle mangiare, si riesce a avere una vita di relazione migliore e quindi questo è per noi l'odontotecnico e l'odontotecnico del futuro comunque partirà sempre da questo principio permettere alle persone di avere una vita di relazione migliore. Grazie.